Quell'anno, la primavera, arrivò presto a Gyeongseong. Brindiamo! Salute! Sto cercando una persona. A quanto pare dovrò entrare di persona. Entrare dove? All'ospedale Hongseong. Quanto tempo abbiamo per trovarla? Fino a quando cadranno i fiori di ciliegio. Benvenuta, magnifica dea. Cyber Appiah... hamburger. Terima Numbers en 이쪽. Pol問 Hai. えば? Si, io la ducina era 나. Di commissione. Vi a to de um. Ogni un paino. Ogni un paino. Ogni un paino Fucking! Grazie.